C'era tanta gente a Deruta a festeggiare Romano Ranieri in occasione dei suoi 55 anni di attività. In mostra tele e ceramiche, due generi nei quali l'artista derutese si è sempre cimentato, raggiungendo risultati di grande livello. In esposizione ceramiche sulle quali è riprodotto in modo perfetto i più grandi capolavori della pittura universale, riuscendo a creare metodi e procedure che hanno impresso alle opere novità ed originalità. Lo stile e le tonalità dei suoi colori nei soggetti classici hanno rotto ed ammodernato una tradizione consolidata, ampliando le possibilità espressive della ceramica, rendendo possibile la reinvenzione moderna dei vasai derutesi del Rinascimento. Ma è nella pittura su tela che forse l'artista ha raggiunto i maggiori risultati, costruendo una propria mitologia tratta dal suo universo interiore e dalle sue passioni. L'artista, scrive Luciano Lepri nel catalogo, sembra divertirsi con i colori e le geometrie che prendono vita sulle sue tele. Nasce così la sua personale raffigurazione del mondo, che consente a chi osserva di introdursi nel suo animo di uomo e di artista tormentato e travolgente, ma anche sereno e coinvolgente. La mostra si potrà visitare fino al 30 giugno, nella sala dell'ex Maioliche di Deruta. La mostra si potrà visitare fino al 30 giugno, nella sala dell'ex Maioliche di Deruta.